Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, il canale di Rostownerd oggi, come avete detto dal titolo, andremo ad analizzare l'ennesimo banner pay perché eravamo poveri ultimamente di banner, non avevamo su chi pullare tutte quelle dreamball soprattutto quelle mie, come vedete da sopra, le 22 dreamball tra l'altro usate per quei pochissimi banner che ci hanno messo a disposizione da al 3 giugno in avanti da partiti scherzi ragazzi, è l'ennesimo banner pay con un giocatore secondo me, a modo di vedere, abbastanza inutile però ripeto, sono questioni soggettive, sono ipotesi soggettive e quindi non c'è a me dire se andarci a pullare o meno, o almeno buttarci le 30 dreamball perché farci un giretto con 30 dreamball assicurandosi un SSR garantito che non sia propriamente lui però nel caso lo dovesse trovare, un dato di cappello, comunque guadagnato un Samurai un giocatore in edizione limitata, se vi capitasse di farci un gioco con 30 dreamball perché no? nel complesso, andandola a vedere, dopo aver visto questo banner ragazzi vi darò un aggiornamento per quanto riguarda comunque la mia formazione quindi rimanete nel video allora, per quanto riguarda Trovanda Mario e Gote, Germania, Racing Sun di tipo tecnico monoruolo, attaccante, l'agile soldato da imboscata tanta tanta roba club, complimenti sapete dare dei suoi pronomi a questi giocatori in maniera unica soltanto voi siete così stamina 1086, un po' bassina per quanto riguarda il PG visto che ormai per quanto riguarda la stamina ormai siamo andati oltre i 1100 punti quindi vedere già un giocatore che sta sotto i 1100 non dico ma è un po' bassina per quanto riguarda invece i parametri attacco 26.000, difesa 18.000, forza fisica 18.000 e 7 lui spicca tantissimo per il tiro 10.700 punti di tiro con potenza 6.400 ottimo tiratore e anche un buon dribblatore ok? E a passaggio non è discreto discreto non è il massimo ma se la cava anche con il passaggio qualora ne avesse bisogno in difesa invece spicca tanto per il contrasto se voi aveste una tecnica di contrasto da potergli passare tipo S come ce l'aveva il Racing Sun dell'anno scorso rosso che secondo me in modo di vedere rimane più utile di questo però ripeto sempre questioni soggettive nel complesso lui è un discreto PG dove sta la chicca di questo giocatore come spesso accade oltre a vedere i parametri ragazzi il punto di forza di un giocatore come vi dico sempre l'80% delle volte è proprio la passiva lui ha contromossa difensori e portieri lui si busta di un 15% contro questi giocatori contro i difensori appunto e i portieri quindi sempre su sempre perché lui essendo soltanto monorola attaccante l'85% delle volte va a matchare proprio contro questi giocatori e quindi con questo boost diventa un buon giocatore non è per niente male ripeto è più che altro un tappabuchi perché lui due cose fondamentalmente buone sa fare dribblare e tirare ma a tiro come vedete ragazzi è messo una luce perché ha il solito tiro performante a 4.45 che di momentum è veramente basso e consuma davvero tanto insomma per essere un tiro così basso quindi nel complesso un buon esterno d'attacco 3-1-3-3 o altri moduli più 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 spinti in attacco con 4 punte insomma lui riesce a fare bene due cose sa anche mettere in mezzo quindi sa anche bene o male crossare però per il resto è è abbastanza situazionale come giocatore non mi fa impazzire vi dico la vita nonostante la passiva non sia malvagia la priorità di squadra lasciamola perdere perché vi fa capire quanto questo giocatore sia stato reworkato perché era un giocatore palesemente da pwe tra l'altro messo in un banner pay quindi induce i propri giocatori ad andarci a pullare tantissimo come vedete ha un legame con 11 giocatori di tipo tecnico tutti i parametri della squadra più un per cento e per il resto hanno fatto un legame che se ci sono trovate più giocatori di tipo tecnico parametri di giocatori della squadra più di un mezzo per cento ormai il bond è basso ragazzi ormai il bond è veramente basso la cosa interessante è lo scudo visto che stanno ritrovando di moda anche le debuff io andando online mi è capitato parecchie volte di trovare squadre che danno malus al 32 per cento ne ho trovato uno devastante ragazzi al 32 per cento è veramente tanto ci ho pareggiato ci ho pareggiato uno a uno mi è andata bene però fondamentalmente è difficile giocare contro le nuove debuff visto che hanno parametri veramente buoni anche sotto l'aspetto dei bond perché viaggiano su un 32-33 bond con un meno 32 di debuff cioè è incredibile quindi fondamentalmente lo scudo è interessante poi ha contromosso contro i giocatori giapponesi parametri più 15 quindi si busta si incontra di un 15 per cento in più oltre alla passiva contro i giocatori giapponesi quindi in questo momento qua il meta è centrocampo attacco top ci sono i giocatori stranieri in difesa spiccano tantissimo anche i giapponesi come i shirizaki j league come anche acai dreamfest insomma e anche i portieri si è messi a base genzo genzo di f2.0 lui è anche su di colore però il momento è basso ripeto quindi diciamo che è più ripeto è un esterno non è mai una prima punta vi dico sotto è un consiglio che vi do quindi ragazzi tra l'altro oltre oltre a lui ci sono stati anche degli ragionamenti ha vinto la nankatsu ci danno anche 7 ci sono state anche 7 i dreamball in più e poi ci sono state le notifiche riguardo anche l'aggiornamento degli altri giocatori pv che adesso vi faccio vedere però prima di andare a vedere le notifiche per quanto riguarda i giocatori pv ragazzi l'ho messo anche ieri in come screenshot nel nel mio gruppo telegram sulla mia pagina facebook ragazzi finalmente dopo 6 mesi e tante dreamball buttate è arrivato è arrivato su basa 3.0 nella live di sabato ero a 78 dreamball per essere proprio chiari e coerenti con la gente che pensa che io mi nascondo davanti alla verità o almeno da quello che dico avevo 78 dreamball qualcuno voleva pullarsi in live ma non l'ho fatto perché non me la sentivo ragazzi volevo fare le due da 50 le due multi da 50 più quella free volevo fare una tirata unica perché pensavo che fare comunque a scaglioni non mi sarebbe non mi sarebbe servito no perché va anche a momenti questo gioco va anche a sensazioni l'indomani la domenica mattina ho raccattato le ultime dreamball tra boundary break eccetera eccetera quindi mi sono fatto le mie 100 dreamball tonde 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 e infatti nello screenshot non c'è avevo scritto 0 nella prima anzi nella seconda del giro perché la prima l'ho fatta in live con voi mercoledì quando è uscito il super dreamfest ed fu vuota anche quella nella seconda che ho fatto ieri mattina vuota anche quella nella terza prima della gratuita ragazzi è arrivato lui è arrivato lui all'ultima carta disponibile delle 10 ho risultato come se avessi vinto un mondiale ragazzi perché non vi sto neanche a dire le sensazioni che ho provato potrà essere ripeto una stupidata però questo giocatore per me è fondamentale a parte comunque avere un artwork devastante perché è bellissima una delle più belle secondo me del gioco ma poi veramente a sgravo l'ho provato in rango vi posso dire che è tutta un'altra vita rispetto a resinsan 2020 neanche ve lo sto a dire io ho già passato tutte le tecniche possibili sto rivalutando un po' di situazioni per quanto riguarda anche di vaul blu che io ho gaccia per poter usufruire anche del suo tiro nel caso quando riuscirò a ritrovare il secondo tamotsu gli andrò a passare anche ve lo faccio vedere così almeno sono schietto ragazzi non ho problemi tonde tonde free free questa è la squadra che al momento io ho la migliore che riesco a mettere in campo come vedete ho riportato i vaul in panchina a modo da poterlo usufruire nel secondo tempo magari cambiandolo con cui fortanto hanno lo stesso bond e lui poter usare il suo tiro migliore e anche l'1-2 per quanto riguarda il primo tempo io provo di scusarlo più come playmaker come giocatore che imposta vedete come come vi dicevo io ho impostato le tecniche difensive l'ultimo intercetto forte il dreaming più forte è la difesa sottomarina che è quella che avevo farmato nell'evento nel raid che ha a disposizione la coppia d'oro la sto portando tutto quanto a 99 al momento non ho tante palle nere quindi non ho la possibilità di poterlo di poterlo skillare al massimo tutto quanto però nel complesso ragazzi in questo momento qua io ve gioco un 39 di bond e ho una squadra secondo me tranquillamente in meta logico mancherebbe sempre quel qualcosina in più per quanto riguarda l'attacco perché ok va bene Santana quando attiva la sua passiva non lo ferma più nessuno per quanto riguarda i tiri però è abbastanza anche lui situazionale insomma va messo davanti alla porta e va fatto tirare per il resto dribbla bene e andrebbe fatto qualche banda e realmente è una nottamozzo ripeto però fondamentalmente questa squadra che mi ritrovo ad oggi con finalmente Tsubasa 3.0 per me è stata la liberazione ragazzi vi ripeto non so quanto in dreamball ci ho buttato delle live che ho fatto per poterlo prendere e sono molto contento sono molto contento perché alla fine della fiera sono riuscito in qualche modo con 300 dreamball sì 150 con 300 dreamball a portarmi a casa un dreamfest senza dover andare in crisi per l'ennesima volta me lo chiedevano anche in tanti sul gruppo sul gruppo telegame di farci a posto un video però visto che ho trovato il modo di trovare anche una scusa per poter fare un video appunto analizzando Goethe vi faccio vedere anche l'ultimo acquisto alla luce del sole senza che qualcuno possa avere la possibilità anche di per l'ennesima volta che io possa essere un incoerente di essere andato a pullare con dreamball shoppate ripeto non ho non è un modo come altro per far vedere che io non shoppo assolutamente perché se devo farlo lo faccio e ve l'ho fatto anche vedere però lo faccio per giusta causa al momento se ho la possibilità di chiudere un giro con le dreamball free l'ho fatto e sono molto molto contento sono veramente molto molto contento però al dia di tutto quanto l'anniversario nel complesso non è andato malissimo le live lo testimoniano però non sto a dire che l'anniversario è stupendo per quanto riguarda quello che c'è stato e quello che io penso rimane comunque l'anniversario inutile mediocre più brutto che abbiano fatto negli ultimi 4 anni ma anche il mese di luglio e non penso ci saranno importanti novità ma pensiamo positivo adesso pensiamo positivo e vedremo per quanto riguarda invece andate a vedere le notifiche l'anniversario come vi dicevo prima ha vinto e quindi ci becchiamo 7 dreamball come vi dicevo c'è il banner di Mario Grote a pagamento in uscita oggi e poi mercoledì arriva il nuovo banner dei giocatori tedeschi con ve lo dico già Shester che è stato rivolcato anche lui che era un giocatore che è anche anche adesso un giocatore nonostante il due e mezzo di bond che dia è un giocatore che era da pwe guardando anche la sua abilità di squadra vi faccio vedere velocemente chi c'è dentro questo banner anche se magari lo avete già visto voi c'è il nuovo c'è il nuovo ritornano i pr scambiabili il pt system il vecchio pt system poi c'è nel banner c'è Caz che è il giocatore comunque di copertina che è quello più forte e che per chi ha trovato Schneider questo pg sarebbe fantastico da potergli lo mettere vicino dopo di lui c'è Shester come dicevo prima e non ci sono soltanto loro due ragazzi perché se andate a vedere giù bene scorrete la pagina vedete che ci sono anche i gemelli Schmidt che sono anche loro molto forti con questa passiva che è il supporto tanta tanta roba quindi loro due giocati insieme rendono tantissimo sono due difensioni con il nuovo blocco uno col nuovo blocco penso che ce l'abbia anche l'altro uno è grosso l'altro questo è la blu si tutti due con un nuovo blocco quindi sono dei difensori belli solidi che chiudono comunque il loro parco skill per chi avessi anche i vecchi Rising Sun quindi questo è un banner è un banner prima di andare a vedere come è strutturato questo banner che sale in esi un baio di sangue non con due pg ma o bensì con quattro pg di cui uno soltanto però è da pwe quindi ragazzi avete tre chance su quattro di non shaftare male ok secondo me è un banner che se fosse stato meno usoso sarebbe stato andare a pullare ragazzi perché era fatto apposta Schneider un po' forte quindi intanto dato che il sole Schneider forte ma completo soltanto con una carta con quella carta che casualmente è in questo banner è che è da 440 Dreambo ragazzi è un banner veramente lungo come quelli che ci sono stati già in precedenza da quando è cominciato l'anniversario un banner davvero davvero cioè da spepperarci tutte quelle che loro non ci stanno dando quindi la valutazione rimane la vostra ragazzi io so benissimo che conta poco la mia valutazione io non ci andrò a pullare anche perché non ho Schneider e di questi giocatori forse mi potrebbero interessare gli Smith per quanto mi riguarda la mia squadra ma ragazzi è un banner buono è un banner buono perché i giocatori sono quasi tutti validi è fatto eccezione per Chester ma che però è difficile da 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 completare secondo me poi ripeto per chi shoppa per chi non ha problemi questo banner sarà tranquillamente da fare però logicamente fare un video apposta per andare ad analizzare tutti questi giocatori mercoledì quando uscire al banner però valutate bene ragazzi valutate veramente bene cosa fare e se ne vale la pena andarci a pullare fino alla fine spero per voi nel caso qualora voleste voleste andare a chiudere il banner che vi vada nel miglior modo possibile che troviate Kaltz che troviate Schmidt i due fratelli Schmidt e non che troviate Chester perché veramente Chester anche se magari i parametri alla mano potrebbe essere interessante perché adesso io parlo dei stats generali non c'è parametri alla mano sembra essere un giocatore un po' inutile tra i 3 tra i 4 però vedremo insomma lo andremo ad analizzare bene oltre questo ragazzi oltre il banner dei tedeschi come vi dicevo prima non so se effettivamente fossero preventivati oggi i giocatori che dovevano essere rivolcati per il 5 ma c'è stata una notifica riguardo appunto questi giocatori che sono usciti da giugno dall'inizio di giugno cioè Ishizaki Pierre Napoleon Soda Sano Ino Pascal Yuga che sono quelli comunque che c'erano nel banner del Samurai 2018 Yuga Misaki Misugi Egito erano i giocatori che erano stati resi latenti ma che erano giocatori da pv tutti questi saranno rivolcati e saranno messi a disposizione in maniera nuova tra virgolette dal 9 luglio quindi da venerdì dall'aggiornamento di venerdì ragazzi non vi aspettate che saranno giocatori che torneranno ad essere giocabili in meta saranno giusto appunto dei giocatori da tappabuchi per poterne usufruire qualora li abbiate trovati però ragazzi non sono giocatori neanche da paragonare a Michael a Blueno a Callusias sono giocatori da tappabuchi mi dispiace perché hanno perso ripeto quei giocatori che cominciano anche prima per Gote sono giocatori che purtroppo hanno perso un'occasione sono giocatori che hanno perso un'occasione e in un modo o in un altro passa questa carta passa questa carta e non ce ne faremo niente se non ce ne facciamo più niente prima quando sono usciti ce ne faremo ben poco quando verranno messe a disposizione anche per quanto riguarda il P2 mi dispiace soprattutto per i Shizaki perché Shizaki nel suo complesso la carta è anche buona sarebbe stata top se non fosse stato per per lo sbaglio clamoroso che hanno fatto sarebbe stato un bel muro da mettere in difesa perché se si sta vincendo lui diventa un animale e anche gli altri giocatori come Pierre come Napoleon giocatori che nel manga spiccano tante che sono personaggi importanti vederli comunque essere annullati in questo modo mi dispiace veramente veramente tanto comunque ragazzi per quanto riguarda oggi il video scusate se mi sono dilungato un po' troppo vi ho detto tutto mi premeva condividere con voi questa mia gioia che era su base 3.0 ci vediamo mercoledì per un nuovo video riguardo comunque l'analisi di questi giocatori tedeschi nel banner vi ricordo per quanto riguarda i contatti volete rimanere in contatto con me ci sono gruppo telegram pagina facebook contatto instagram server discord sto portando avanti il progetto per quanto riguarda anche il il canale di twitch però per quanto riguarda questo questo progetto lo vedremo più avanti ecco io ringrazio ancora ripeto qualun'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi i miei contenuti vi rimando al prossimo video e buon che va a tutti ciao ragazzi ciao ciao